Buongiorno, benvenuti alla testata di martedì 23 giugno. Leggiamo le notizie che riguardano Bari e Provincia, lo facciamo con LiveNetwork.it dalla nostra redazione di OTV, canale 649 del Digitale Terrestre. Apriamo con Bitonto, furti in spiaggia a Santo Spirito, Palese e Giovinazzo. Arrestati tre ventenni baresi. Leggiamo intercettati e perquisiti sabato scorso vicino al porto di Bari, sono ora ai domiciliari. La stessa notizia rimbalza anche su Giovinazzo, quindi vediamo furti in spiaggia, arrestati irresponsabili. Santeramo in colle in movimento, via Iacovello cambia verso. Da alcuni giorni la voce circola insistentemente tra i commercianti della zona. Ad intervenire sulla probabile vicenda è Santeramo in movimento, locale associazione vicina al Movimento 5 Stelle. Fasano schianto nella notte a Torre Spaccata, due giovani fasanesi in ospedale. Qui vediamo nel riquadro le immagini dell'auto. L'incidente si è verificato lungo la strada comunale che collega pezze di Greco a Torre Canne. Ricostruzione affidata ora ai carabinieri. Barletta a tir rapinato da cinque uomini armati, autisti sequestrati per un paio d'ore. L'episodio è accaduto sabato mattina. Il mezzo di un'azienda di autotrasporti barlettana è stato bloccato sulla 16 bis all'altezza di San Ferdinando di Puglia. Ebbene con questa notizia di cronaca è tutto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani mattina.